Le diverse regioni, partecipanti al progetto, hanno trasmesso informazioni in merito a nuovi atti o a delibere, dati epidemiologici, azioni intraprese, protocolli sanitari. Quanto emerso dall'analisi di tali esperienze, viene riassunto di seguito. È in atto un programma di sorveglianza sanitaria in 14 regioni su 20, che ha permesso in questi anni di assistere circa 25.000 soggetti ex esposti ad amianto. In alcune regioni, sono state visitate specifiche corti di lavoratori ex dipendenti, di aziende ad alto rischio. Nella maggior parte delle altre regioni, la sorveglianza sanitaria è di tipo passivo, su richiesta. Il servizio offerto consiste sempre di visita medica, anamnesi, spirometria, e in alcuni casi di LCO, cioè diffusione del monossido di carbonio. Molte regioni, distinguono i soggetti a seconda dell'esposizione alta, e bassa, secondo parametri diversi, e con metodiche differenti. Non tutti fanno accertamenti radiologici. Spesso vi è l'indicazione di effettuare una radiografia del torace, più raramente la TAC. La periodicità, è solitamente triennale, in alcuni casi biennale, annuale, o quinquennale. Raramente viene coinvolto il medico di medicina generale. L'approfondimento diagnostico, viene effettuato su indicazione clinica sul singolo soggetto. Con lo scopo, di formulare la proposta di protocollo sanitario per gli ex esposti, ad amianto, sono stati raccolti, e confrontati i dati di alcuni centri, situati in quattro regioni, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, ed Emilia Romagna. Mettendo in evidenza punti di forza, e criticità, dei diversi protocolli in uso. In totale sono stati analizzati i dati di 1071 ex esposti, visitati tra il 2013, e il 2014. Il 95% di sesso maschile. L'età media è di 65,5 anni, il valore medio dell'anno di prima esposizione è il 1969, il valore medio dell'esposizione cumulativa è 162,6, il 15,8% fuma, il 62,8% presenta un'alterazione dell'indice di tifano alla spirometria, il 3,3% presenta un quadro di asbestosi, il 28,3% presenta un quadro di placche pleuriche, 5 i tumori polmonari denunciati, e 9 i mesoteliomi denunciati. Dall'analisi di questi dati, sono emerse alcune criticità, in particolare, non tutti i centri applicano il medesimo protocollo, non tutti i centri, effettuavano la stima, dell'esposizione cumulativa, non c'era uniformità di refertazione, e classificazione degli accertamenti radiologici, né criteri diagnostici condivisi. L'analisi dei dati, ha cercato di individuare quale potesse essere la variabile, che potesse svolgere la funzione di surrogato, dell'esposizione, rispetto i dati di outcome, ovvero di effetto, in primis la presenza di placche pleuriche, e di asbestosi. Incrociando, i dati di effetto con i diversi dati, di esposizione presenti, e di facile reperibilità. È emerso come, sia le placche pleuriche, che l'asbestosi si correllino in maniera statisticamente significativa, solo con l'anno di inizio dell'esposizione, in particolare, nel campione analizzato. Il 99% di queste patologie benigne, si presentava in soggetti, con anno di inizio dell'esposizione, anteriore al 1975. Parallelamente, sono stati analizzati i dati relativi all'intensità di esposizione, attribuita attraverso l'integrazione, dei diversi determinanti di esposizione. Raccolti con il metodo JSM in uno specifico centro di riferimento, l'SPSL dell'Ulss 12 di Venezia Mestre. Su 1460 soggetti visitati dal 2000 al 2011. Che hanno lavorato esposti all'amianto dal 1959 al 2010 presso diverse realtà produttive. Quello che è emerso è un trend temporale caratteristico, per cui dopo il 1986 l'intensità di esposizione stimata cala drasticamente, attestandosi attorno a 0,1, una concentrazione al di sotto del periodo. Che aveva costretto le aziende a rispettare valori di soglia più bassi rispetto al passato. Un simile andamento è stato riportato nell'industria manifatturiera in Germania, dove però i dati erano misure ambientali reali, non stime. Possibili spiegazioni di questo calo, possono essere. L'iniziale dismissione dell'uso di amianto da parte del settore produttivo, e le attività di prevenzione, messe in atto in quegli anni, anticipatrici di una normativa che di lì a poco avrebbe vietato l'uso, e il commercio dei materiali contenenti amianto in Italia. Analizzando i dati raccolti a Venezia. Emerge come, dopo il 1986 l'intensità di esposizione, si riduce drasticamente al di sotto dei valori e limite per l'amianto di quel periodo. Il 1986 assume così il significato di anno di ultima esposizione. Pertanto si possono definire tre classi di esposizione, a seconda, dell'anno di inizio e dell'anno di fine dell'esposizione. Alta esposizione. Soggetti che hanno iniziato a lavorare prima del 1975. Media esposizione. Soggetti che hanno iniziato a lavorare dopo il 1975 e prima del 1986. Bassa esposizione. Soggetti che hanno iniziato a lavorare dopo il 1986. Supervisore. 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 Grazie a tutti.